Oggi primo giorno di allenamento per il neo allenatore dell'Alma Juventus Fano. Dopo la sconfitta interna per due gol con i Bergamaschi dell'Albino LF, Giovanni Cusatis fa le valigie e cede il posto ad Agatino Cuttone, classe 1960, storico difensore in A e in B del Cesena, il quale non ha il facile compito di tirare dalle secche del fondo classifica il Fano, che ha uno svantaggio di ben tre lunghezze con il suo diretto avversario. Cuttone ha già dimostrato però di avere i numeri per compiere il miracolo, nel 2014 ha salvato il Salmarino e nel 2015 si è ripetuto con il Sant'Arcangelo, ora come dice il proverbio non c'è il 2 senza il 3. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, per cui le difficoltà sono notevolissime, la classifica parla chiaro, però questo non mi scoraggia assolutamente, anzi è un motivo in più di determinazione e grande spirito di sacrificio che vorrei poi trasmettere alla squadra in questa situazione. Quali sono i punti saldi sui quali lavorerà in queste prime ore? Prima voglio prendere visione un po' generale della situazione, valutare un po' l'aspetto psicologico un attimo della squadra in generale, poi dei singoli e poi avere anche qualche confronto individuale per cercare di trovare la via più corta per cercare di trovare soprattutto i risultati e poi la serenità direi. Con Cuttone arriva anche un nuovo preparatore dei portieri da Acqualagna, Mario Paradisi, mentre il secondo rimane Scardovi. Ma le buone intenzioni della società, prestando fede a quanto affermato dal suo presidente Gabellini quando annunciò il suo divorzio dalla squadra, si sono concretizzate nella campagna acquisto-invernale mettendo due nuovi innesti nella squadra, Meandri e Aschong. Siamo convinti che lui ci porti fuori da questa brutta situazione. Obiettivo salvezza? Quello fuori di dubbio è come vedete già dal mercato, poi con questo avvicendamento in panchina il presidente aveva detto e sta facendo con i fatti vedere che farà di tutto e faremo di tutto tutti per salvare la categoria. In questo momento qui non mi sento più.